Posso spiegare una cosa? Allora, praticamente adesso succede se hai fidanzato... Quattro volte. Cosa vuol dire quattro volte? Che ne ho quattro. Di fidanzato? Come si chiamano? Allora, Rebecca, Deborah e Lisa. Quanti anni hanno? Una... una otto. Una otto, una otto, una otto, una ventuno. Quella di 21, me la presenti a me? Ma anche lei mi dice che voleva venire oggi. Ti dispiace se mi ci fidanzo io con quella di 21? Muore, Lisa, è quello che io la diciamo. Sei geloso? No. Ah, vabbè. Allora, senti, con tutte queste fidanzate, con quale fidanzata stai da più tempo? Aurora. Quanti anni è che ci stai? Non lo so, da tre anni. Quando avevo tre anni, che sono andato alla scuola, la prima volta che l'ho vista, ci siamo subito fidanzati. E senti, è come la prima volta che l'hai vista, che faccia hai fatto? Così. Ma era bellissima. Allora, tu adesso sai che devi fare l'attore, no? È una cosa un po' difficile, perché noi bisogna fare nei film quello che succede davvero, però un po' di più. E adesso tu devi fare la tua fidanzata e la bambina che tu ami di più in assoluto. E quindi tu dovrai fare una faccia così. Così, ce la fai? Perfetto. Ora, Stefano, vi porti qua, come si chiama? Beatrice? La principessa. La principessa. Come si chiama? Non mi ricordo. Adesso te la presento, è molto carina, in effetti. Guarda, secondo me, te potresti avere anche una fidanzata in più. No. No? Eventualmente anche cinque fidanzate si può fare. Stai comodo? Sì. Beatrice, Beatrice, via i quali. Eccola, lei è Beatrice. Beatrice ti presenta Alessandro. Vai, datevi la mano, che pezzo. Non lo riesco. Ah, aspetti. Faccio io il proprio bimbo. Ecco. È bella, no? Sandro, me lo caputti qua in scena, Paolino? Praticamente, Paolo, ho bisogno del bimbo. Arrivo, arrivo. Succede che quando tu vedi lei, tu devi fare quella faccia che mi dicevi quando hai visto, però. Ho capito, proprio... Vai tutti gli occhialini. Ti fai vedere? Vieni, la fa qua. Vieni, vieni, vieni. Portalo così, Paolo. Riccardo è bravissimo, lo catapulta qua. Vieni, vieni, vieni. Lo elicottero, grazie Riccardo. Se vede che mi fai. Beatrice. Lì qua. Quisino. Spostate, sfidanzata. Non ti confido, no? Non mi sembra il momento, vedo? Dai, andiamo. Andiamo.